Sperare i 5 stelle vuol dire raddoppiare i voti in tre mesi, io sono ottimista per natura però non così ottimista, a me interessa che la Lega abbia un buon risultato e che ci sia una maggioranza di centrodestra in Europa e siccome non commento le ipotesi negativi ho passato la campagna elettorale d'Abruzzo commentando ma se perdete in Abruzzo e abbiamo vinto e quindi noi vinceremo le europee e cambieremo un'Europa folle, ideologica, anti ambientalista, anti sviluppo e poi la Lega farà tutto quello che è giusto fare in un partito però io penso che andremo bene perché le nostre battaglie sono quelle che molti italiani riconoscono.